Ecco, Sindaco, la chiusura della CUP. Ebbè, stamattina si è verificato quello che già sapevamo. Era da tempo che si paventava questa chiusura per mancanza di personale, ma evidentemente chi aveva il compito e il dovere di sostituire le persone che sono andate via non ha fatto il suo lavoro. E tra l'altro abbiamo anche saputo che due dipendenti della Sanità si sono rifiutati di venire a fare sportella a Gioia Tauro. Questo è un fatto gravissimo e quindi ci deve essere polso e pugno fermo in modo tale che si facciano gli ordini di servizio e utilizzare il personale al posto giusto. Non è possibile che in questa situazione a pagare siano sempre i cittadini e stamattina giustamente reclamavano queste loro vicissitudini perché dovevano fare la spolla tra Gioia Tauro e Palme per andare a mettere un timbro e poi tornare a Gioia Tauro per avere le prestazioni dovute. Così non va bene. Comunque io ho informato i responsabili sanitari che si sono subito attivati e quindi domani mattina ci dovrebbe essere un amministrativo che verrà provvisoriamente da Polistena per tenere aperto lo sportello del Cuppe. Questo è uno dei problemi dell'ospedale di Gioia Tauro. Poi il resto è che noi cosa chiediamo? Chiediamo che venga rispettato il piano sanitario regionale approvato da chi ha avuto il potere per farlo. Quindi chiediamo che l'ospedale rientra in funzione nella sua piena totale efficienza è stato inserito come ospedale prima covid e poi non covid si sono fatte delle migliorie quindi delle ristrutturazioni all'interno dell'ospedale e quindi oggi chiediamo con maggiore forza e determinazione che l'ospedale possa funzionare per dare la giusta assistenza sanitaria ai nostri concittadini. La situazione attuale a questo ospedale che cosa fa? Sono pronti soccorsi? No, fa il pronto soccorso ma c'è anche altri reparti alla medicina, anche la cardiologia quindi sta funzionando, in piccolo sta funzionando. Il problema è che ha bisogno di personale medico, di personale paramedico, di strumentazione e le somme stanziate anche negli anni passati sono ancora lì disponibili quindi non si capisce perché c'è questo ritardo per far arrivare l'attacca, per far arrivare il mammografo per far arrivare altri strumenti che sono stati comunque già finanziati. Quindi questi ritardi la dicono lunga su come si gestisce la sanità in Calabria e noi ci auguriamo che quanto prima chi è responsabile della sanità provinciale riesca a metterlo in funzione e a farlo funzionare per come deve funzionare. Pochi giorni fa c'è stata un'operazione anti-Indrangheta qui a Gioetaura colpito due famiglie importanti di Indrangheta qualcuno dentro il comune di Gioetaura lei cosa farà? Si costituerebbe parte civile in questi processi? Noi l'abbiamo già dichiarato, noi ci costitueremo parte civile in tutti i processi di mafia e indipendentemente se sono pubblici dipendenti o se sono cittadini della nostra comunità questo per me è scontato, abbiamo iniziato già nel 1998 a fare le prime costituzioni di parte civile contro l'Indrangheta, per me è come dire è ordinaria amministrazione procedere in tal senso poi è chiaro che questo dimostra ancora una volta che l'Indrangheta è presente a Gioetauro e quindi riesce ancora a fare in parte il bello e il cattivo tempo beh la mia amministrazione è un'amministrazione diversa da quella che l'hanno preceduta noi continueremo a fare la nostra battaglia per la legalità, per la trasparenza e contro la criminalità organizzata Quindi qui dentro l'Indrangheta non entra? Per quanto mi riguarda non entra